Incontro Alicost Operatori, quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono intanto quello di collaborare con Alicost per questa iniziativa che riguarda le escursioni e la possibilità di andare nelle olie partendo da Sapri e quindi calare questa iniziativa anche su quello che è il turismo che esiste sullo Golfo di Policastro. Infatti gli operatori presenti rappresentano un po' tutto il Golfo di Policastro e quindi il Basso Cilento. È un'iniziativa interessante che sta crescendo adesso, è una proposta diversa perché il nostro territorio può diventare un territorio ponte per le isole olie conservando però la possibilità della recettività, quindi del pernottamento del cliente che può venire dal nord, dal sud, dalle zone limitrofe rimanendo qualche giorno qui nel Cilento e poi raggiungendo le isole olie per continuare il suo viaggio. Siamo in una fase preliminare, ci stiamo discutendo, abbiamo avuto delle notizie importanti, adesso dobbiamo lavorarci un po' perché l'estate è ormai alle porte ma sicuramente ha accolto il nostro interesse. Il nostro obiettivo non è altro quello che di aumentare il numero dei turisti che arrivano sul territorio. Ecco appunto quello che ci stavamo dicendo, dobbiamo diversificare l'arrivo dei nuovi turisti, quindi stiamo puntando su una fascia diversa di turismo, un turismo che mi possa fare quotidianamente una escursione presso le isole olie, in maniera tale che da Sapri partono la mattina alle 9.40 e possono arrivare a mezzogiorno all'isola di Stromboli e magari rientrare la stessa giornata alle 19.00 e essere a Sapri, in maniera tale che possono tranquillamente pernottare oppure cenare qui sulla città di Sapri. Iniziano a vivere anche il territorio cilentano. Ma gli operatori sono pronti per questo tipo di impegno? Gli operatori sono pronti, si devono semplicemente, dovranno lavorare un pochino in più. Il territorio ci dà tutte le possibilità. Il territorio del Cilento è fantastico, purtroppo è poco conosciuto o purtroppo è stato un poco mal gestito nel corso degli anni. Oggi ci deve essere una ripresa.